Allora, oggi proviamo a creare un vortice, un tornado dentro al barattolo. Lo sai che cos'è il tornado tu? Sì. Eh, vedete mamma te lo fa vedere cos'è. Vieni qua, qua c'abbiamo un po' d'acqua, un barattolo vieno d'acqua, niente di complicato. Mettiamo un po' di pillantini? Sì. Pochi pochi? Sì. È capo. Basta, faccia una cosa, sennò che non lo trovo. Quello, quello. Quello, mettiamo quello. Dove lo mettere tu questo? Sì. Aiuto io? Sì. Vai piano, per me, per me. Basta, 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 vediamo se basta così, va? Vediamo, ci troviamo? No, no. Eh no, no, non sa neanche che dobbiamo fare. Ci troviamo, eh? Lo mettiamo a testa in giù e faccio un disco. No, no. Eh, aspetta, vediamo che succede. Mamma non lo sa neanche girare. Eh, no, non è venuto. No. 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 Perché dobbiamo girarlo bene? Abbiamo venuto un altro barattolo nella calma, guarda. Hai visto? Un altro barattolo nella calma? Sì. Sì. Wow, che bello, anche col doppio colore. Lo teniamo così? No. Proviamo a fare questo tornando, guarda. Attola. Dice che bisogna girare in fondo. Ma quello, quello. Ma se mettiamo tutto quello, facciamo un macello, un macello, un altro. No. Vediamo. Ma non viene antipatico questo topone, eh? No. Forse ne abbiamo messo troppo, ne mettiamo un po'. Sì. Sì. Ah, si è tornato. Quale tipo di effetto? Sì. Wow, questo è bellissimo. Sì, adesso ci pensa la mamma, sciocciocca. Vuoi vedere che bello effetto che si divide il colore? È bello, eh? Wow. Allora, Mattia, forse la mamma è riuscita a rimediare al disastro che abbiamo fatto. Meno acqua, meno sapone, niente glitter. Che fai? Mangi la checalecca? Eh? Ma vedi un po' la lingua? Fai via la lecca lecca? Ma c'è un puffo! È buona, Vita, lecca lecca? Sì. Nel frattempo ci ha raggiunto anche Federico che si è svegliato, un po' arrabbiato. Allora, vediamo questo barattolo che succede? Ci proviamo? Sì. La vai appoggiare di là? Intanto mamma prova a vedere questo barattolo. Corri, vieni a vedere, vediamo se funziona, eh. Mettiti di qua, mettiti di qua. Che fai, muovendo le camera? Diventi regista? Vediamo, eh. No. Eh no, e mamma ancora non ha fatto niente. Dai, mamma, mamma. Aspetta, aspetta, aspetta. Lo facciamo con forza, forza, forza. No, eh. Vieni a vedere, dai. Che mamma non è che c'è quel movimento rotatorio bellissimo. E non viene. Allora, questo qua, senza la telecamera, vieni con la telecamera, no. No. Ci riprova, mamma. Ci riprova. Ci riprova. Lo vuole far vedere se è tornato, mamma, eh. Poco, poco. Poco, poco. Beh, mamma è capocciona e quindi ci riprova di nuovo. Eccolo, Mattia, guarda, amore. Piccolo, piccolo. Matti, corri, guarda un po'. Wow. Hai visto? Sì. Ci siamo riusciti. Sì. Ci vuole una forza non indifferente. C'è l'acqua. Eh, c'è l'acqua, sì, amore. Wow, ti è piaciuto questo tornato nel barattolo? Guarda che ancora c'è, guarda un po'. Che un pochino ancora c'è. Oh, mamma mia. Mamma è stanchina. Sì, batta, mamma è stanca. Senti, lo sai che fai un po' pressione con le labbra blu? Salutiamo anche i fratellini. Che state facendo, i fratellini? Mi scrutate le maline a vicenda? Ciao. Matti, saluti? Dai, saluta. Oh, no, 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 no. Baldi, fai un balletto per il pubblico? No, no, no. Amore. Opla. Mattia, dai. No, 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 no. Dai, come si dice? Come si dice? Dai, saluta, Matti. No. Perché no? Ancora video. Ah, ancora video, ma se non saluti non possiamo farne un altro. Devi salutare. No. Ecco.